Prevenire è meglio che curare, lo slogan di un vecchio spot pubblicitario, probabilmente adottato anche da Claudio Lombardo, responsabile unico dell'associazione ambientalista Mare Amico Agrigento, che a circa due mesi di distanza dal Ferragosto ha chiesto alla prefettura di Agrigento un incontro per pianificare l'organizzazione della festività. Riunione che ha lo scopo di programmare e quindi evitare che sulle coste agrigentine si ripetano gli scempi del passato. Mare Amico si riferisce alle tendopoli allestite abusivamente e alla grossa mole di rifiuti abbandonati sulle spiagge. Come ricorderete la stessa associazione l'anno scorso aveva denunciato pubblicamente quanto accaduto sulle spiagge di Porto Empedocle e Real Monte.